In questi passaggi veloci vediamo come creare un link per condividere i nostri lavori, un link che consente di fare una copia. Per condividere i lavori che abbiamo creato andiamo su Share, facciamo Get Link, Change, così copiamo quel link, Anyone with a link can view, cioè viewer, copiamo quello, poi torniamo su Google e modifichiamo l'ultima parte del link prima di condividere, quindi cancelliamo fino alla parola Edit e scriviamo semplicemente Copy, poi quell'indirizzo intero, quello che servirà per condividere, perché quello funziona in maniera tale che chi riceve possa fare una copia. Prima di condividere facciamo una veloce verifica se funziona il link con la modifica a portata ed ecco che ci chiede di fare una copia, quindi Make a Copy e non ci viene fuori la schermata dove ci invitava a mandare una richiesta di accesso. Una volta che abbiamo la nostra copia facciamo File, Make a Copy dell'intera presentazione, quindi ci salviamo e da lì possiamo modificare tutto quello che vogliamo. Questo è tutto, ci aggiorniamo nel gruppo, a presto!